6 acquisti e 10 cessioni, nessun nome di primo livello, ma tutti gli esuberi piazzati ed un bari che può cambiare anche sistema di gioco. Questo ha portato il mercato di gennaio alla formazione di Michele Mignani, che ha colto il portiere Sarri, che ha sostituito Polverino, andato alla Fidelisandria, gli esterni Moracchioli e Molina, un giocatore d'esperienza come Ahmed Benali, e un giovane come Esposito, oltre a Matino, che ha sostituito il partente Emanuele Terranova. Le attenzioni si focalizzano soprattutto sul possibile cambio in attacco. Moracchioli e Molina sono due esterni, due giocatori molto duttili, dotati di un'ottima corsa, di un dribbling e della capacità di offrire l'assist alla prima punta. Questo potrebbe presupporre anche un passaggio al 4-3-3 a partita in corso, non più il trequartista dietro le due punte o i due trequartisti dietro l'attaccante, ma un fronte offensivo aperto, con due giocatori che possano agire sulle fasce e cercare l'uno contro uno, con gli esterni o con i braccetti avversari. Molina è un classe 1992, proviene dal Monza, dove è stato protagonista nella seconda parte della scorsa stagione, ha collezionato cinque partite in Serie A nella prima di questa. Moracchioli invece proviene dal Renate, classe 2000, ex settore giovanile della Juventus, ha giocato anche nello Spezia con Leonardo Benedetti. Vanno ad unirsi agli attaccanti già presenti in Rosa, Schiller, Antenucci, Seter e soprattutto il capocannoniere Cheddira, oltre ad Esposito, arrivato qualche giorno prima di loro, con Moracchioli e Molina, insomma, il bar avrà più alternative.